Ciao, ho una ricetta, insomma, mi sto preparando la cena, quindi ho detto di farla vedere. Ho messo la quinoa a lessare, aspetta, quinoa, vabbè, quinoa è sopra il suo coso, quinoa quella bianca è rossa, ma io ho messo la bianca. Allora, lo faccio su questo perché è più piccola e quindi va bene così, che se no lo perdo. Aspettate, la quinoa bullisce in 10 minuti più o meno. Sono sempre 4 cucchiai. E là ho dei peperoni fatti là. Allora, cosa ho qua? Ho il cipollotto, il prezzemolo, sedano, aglio e metto anche basilico, non ho quello fresco. Vabbè, vabbè, potevo, che scema. Vado a tritare e anche la menta. Ho anche la menta, non fresca, ho la menta asciutta insomma. Allora, lascio qua che si asciuga questa qua, che si raffredda. Se lo metto sulla finestra, mi viene il gabbiano. Scusa, pufulezzi, lo metterò qua. Che si asciuga più in fretta insomma. Da qui in noa, si vede, sì. Tutte le cose tritate. Però è troppo, quindi farò di meno questi qua, li metto in congelatore. Perché è troppo, mangio solo io. Metto anche il basilico. Vediamo se... Vediamo se... E questi sono i peperoni... e la grigliati in suoi. Adesso... Taglio... Taglio... questa è una bella insalata se si vede allora così dopo ci metto ci metto l'avocado ma sempre metà perché il Folex non ti piace amore ti prego non venire qua l'avocado l'ho scoperto è una meraviglia nella insalata io lo adoro l'avocado e qua va bene la carne ma io ci metto se ci metto la carne siccome oggi ho avuto un po' problemi di salute allora cosa faccio io adesso prendo un piatto eh lo so, sono più disordinata e qua e qua gli prendo i peperoni e ci metto un po' di carne siccome a me non piace deve essere proprio piatta piatta perché se no se è cruda non mi piace se è cruda non mi piace poi qua mettiamo il sale e il pepe su un rumo sale un po' pepe e poi e poi mettiamo il piatto che mi dà me anzi a me 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 il peperon mettiamo anche la carne, versiamo nel piatto, beh con quattro cucchiai di quinoa ti fa un tanto da mangiare, per me è tanto adesso, vediamo se riesco a ingannare Nicola. Basta amore, mamma non la vuole, non la vuole, non la vuole, non la vuole, non la vuole. Oddio, questo è un mio occhio, tagliamo la carne, per chi non mangia la carne, manco io mi sbato tanto, però questi giorni mi sento un po' affaticata. andiamo a staccare un po' di città. Ah, che follezza hai rotto il marone. è perché c'è l'odore di carne. questo è un bel piatto, che ha il peperone grigliato. un po' di prezzemolo, aglio, avete visto quello che ho tritato e ti mangio una bella insalata. buonissima, metterò un po' di limone. ho questo qua, ci metto questo. va bene mondo. vi saluto. provate, perché è buono. e sazia parecchio. vi mando un bacio, saluti, saluto e ciao a tutti, ciao, ciao a tutti, ciao. pazienza.